Girare di più, attenzione, fino in fondo deve arrivare il volante. Da più di 30 anni all'Isola d'Elba rappresentano l'appuntamento immancabile delle feste natalizie per il divertimento di tutta la famiglia. Stiamo parlando delle giostre dei fratelli Roberto e Luciano Cucini che dal 1980 con la loro attività fanno tappa fissa a Portoferraio. Ormai è un appuntamento fisso, tutti arriviamo col Natale. Siamo babbi natali di Portoferraio perché portiamo un po' di movimento per i bimbi. Penso che sia una cosa gradita. Qual è il vostro rapporto con l'Elba e con gli Elbani? Siamo quasi, diciamo, residenti perché io ho due figli nati su Portoferraio. Io riconosco i ragazzi che erano giovani, che ora vengono con i figli e anche con i nipoti vengono sulle giostre perché appunto è tanti anni. Poi essendo piccolo, un ambiente non di tanta gente, io riconosco i clienti ormai da anni. Dopo la tappa Elbana e Luna Park Cucini si sposterà in altre città, principalmente della costa toscana. Ma come si vive a doversi spostare sempre in posti nuovi? Per la verità, quando ero giovane pensavo che era una gran bellezza. Ora ho qualche dubbio. Infatti ai miei figli gli consiglio, se potete fare altro, cambiate. Ora ci sono molti problemi burocratici per andare avanti ogni anno in normative. Guadagni sempre più bassi perché la crisi si sente tanto e non ci sono quasi più margini. Difficile rinnovare nuove attrazioni e quindi il futuro è un po' triste per il nostro settore. Come molti settori anche, penso di piccoli imprenditori che vedo anche qui a Portoferraio, chiudono negozi, chiude barra e chiude tanto. Non è facile insomma. Anche in questo settore, come abbiamo sentito, le difficoltà non mancano, ma Luciano e Roberto raccontano del loro lavoro con passione e fino all'11 gennaio vi aspettano a Portoferraio con le loro attrazioni. Fino all'11 gennaio, ora per tutte le feste, quindi siamo attivi qui. Aspettiamo numerosi bambini.